Ed eccomi all'appello, dopo la call to action fatta nello scorso video, nel video legato alle strategie da poter applicare in questa fase Io sono Tiziano Tritico, mi occupo principalmente di bitcoin, cryptocurrency, di mercato, di notizie legate a questo settore E in quel video che appunto inserirò nelle schede, anzi vi faccio vedere un pezzettino, quello legato alla call to action Tanti sono posizioni che rimangono e sono un'eredità del 2017, 2018, 2019, ma tante altre posizioni non le andrò ad accumulare in questa fase Ci sono ovviamente monete qui in mezzo di cui andrà e varrà la pena avere posizioni, adesso non ne ho perché questa fase transitoria, come detto, come sto ripetendo Secondo me è meglio avere posizione su medium cap, quindi preferisco adesso mettere più su ethereum che variegare La strategia cambierà più si avvicinerà il bull market A questo punto volete sapere quali sono le percentuali delle monete che vi ho detto nel mio portafoglio? Facciamo così, faccio un'americanata oggi in questo video qua Se siete interessati a sapere quali sono le percentuali, rilascerò un video facendo vedere il mio portfolio in percentuali sulla suddivisione delle varie monete Rilascerò quel video se questo stesso video adesso supererà i 1000 like Quindi nel momento in cui questo video supera i 1000 like, allora farò quel tipo Dicendo questo mi sono rovinato perché poi i like sono arrivati a superare addirittura i 1500 Non ho mai visto una cosa del genere, se vedete la media dei like negli altri video è imparagonabile In quel video parlavo appunto di come strutturare un portafoglio Soprattutto che strategia applicare in una fase dove ci si avvicinava a un bull market Perché ogni fase è a sé, come dicevo Allora in questo video siamo arrivati al punto della situazione Quindi vi farò vedere le percentuali del mio portafoglio attuale Ma prima devo fare delle premesse che sono dovute E attenzione non sono le classiche investite solo di testa vostra, questi non sono consigli finanziari No, sono delle cose che sono fondamentali per capire questo video Ossia questo portafoglio che vi sto facendo vedere è il mio reale portafoglio Le percentuali reali che io ho Ma non è il portafoglio che io vorrei avere o che preferirei avere o consigliare a tutti quanti Perché non è un canvas, non è prendete questo portafoglio, copiate, incollate e fate le stesse percentuali Questo portafoglio è frutto di un percorso Io ho iniziato questo portafoglio ormai più di tre anni fa In questo percorso ne sono successe di tutti i colori e io sono una persona che sperimenta tantissimo Ho provato inizialmente il cloud mining, quindi grandi quantitativi sono arrivati dal mining in cloud Ho provato tutta la fase delle landing platform Per chi ha vissuto il 2017 sa bene di cosa sto parlando Hanno strutturato sia una mia esperienza sia il portafoglio in un modo diciamo particolare E poi come non parlare di tutta la fase dell'ICO dove mi sono buttato a sperimentare E ho diciamo messo diverse allocazioni per provare diversi progetti Ovviamente su percentuali minori qualcuno è andato bene, qualcuno è andato male Nelle ICO come per le startup il 90% è a grandissimo rischio Magari un 10% ci dà soddisfazione E infatti questo portafoglio si è strutturato in un modo tale da avere determinate allocazioni Ma si è costruito nel tempo Se dovessi partire da zero da oggi non sarebbe probabilmente questo il portafoglio che avrei E non sarebbe neanche quello che consiglio a chi ha fatto un percorso più breve Questa è una premessa importante Infatti cosa vorrò fare? Vorrò fare un altro video a seguito di questo Dove andrò a parlare del canvas, del portafoglio che vorrei avere, quello ideale Con cui magari partirei in questa fase, quindi nel 2020 Adesso però vi faccio vedere il mio perché è ora Ed eccolo qui Questo con queste percentuali è il mio portafoglio attuale Vi ripeto, non va preso come copia e colla Va preso come riferimento Adesso vi spiego anche come si è strutturato E come cerco di aggiustarlo perché ovviamente è un'operazione continua Non è che sono fermo Poi io sono attivo in questo settore tutti i giorni Quindi immaginate se non lo ritocco continuamente È ovvio che sia così perché è anche un gioco È come se fosse uno strategico Allora vi dico spesso che la più grande percentuale del portafoglio Dovrebbe secondo me, ovviamente, secondo la mia opinione E infatti lo rispecchia anche il mio portafoglio Essere in BTC, in Bitcoin Ad essere onesti, secondo me la percentuale che ho io è anche troppo bassa Perché il portafoglio dovrebbe essere almeno al 50% in BTC Io ho cercato di incrementarla Questa percentuale era anche minore Soprattutto a seguito del 2017 Dove c'è stata l'esplosione di ICO e tutte le altcoin Io sono nato, tra virgolette, in quell'anno lì Quindi immaginate la percentuale in Bitcoin quanto era minore Anche se inizialmente ovviamente prendevo Bitcoin, accumulavo Bitcoin Ma l'esplosione delle ICO e l'esplosione delle altcoin durante quel bull market Ha fatto stravolgere il posizionamento e le percentuali Poi durante il periodo di bear market ho cominciato a riaccumulare E sarebbe stato meglio averlo prima Si fa esperienza La seconda percentuale più alta stupirà tantissimi Ed è ancora NIO Pensate che NIO è stata una percentuale altissima nel mio portafoglio Anche perché NIO ha toccato dei picchi assurdi Sovra di 150-160 dollari a un certo punto Io già partecipai in fase ICO Non proprio durante l'ICO ma subito dopo Quando NIO ancora veniva chiamato AntShares Quindi entrai con dei quantitativi anche piccoli Veramente dove NIO valeva pochissimo Appunto non era chiamato NIO Poi nel tempo diventò NIO Il prezzo si impennò tantissimo E soprattutto era ed è tuttora Un asset diciamo difficile da dar via Perché? Perché a me piacciono gli asset che generano un passive income Generando gas e avendo un quantitativo importante Potevo detenendone come tuttora è In un Ledger Nano S In un hardware wallet Avere un cash flow continuo in gas E fare compounding Quindi cambiare gas per NIO E accumulare ancora di più Nel tempo questa era una strategia che vedevo vincente Fintanto che NIO andava in aumento Poi NIO è andato a crollare veramente tanto E ancora una volta Col senno del poi avrei dovuto dar via delle posizioni Ma vi assicuro che farlo in una fase Diciamo ribassista dove da 150 Scende sotto i 100 Si pensa che più o meno il bottom sia stato toccato Quando si arriva ai 50 Si comincia a pensare 50 dollari eh Dai 150 si comincia a pensare Beh se non ho venduto finora A questo punto tengo Poi quando arriva a 7 dollari Capite bene che La frittata è fatta E questa è stata la situazione per NIO Adesso è un po' ripresa ovviamente Però nessuno poteva Immaginarsi un calo del genere Anche lì ho imparato tanto in questa esperienza Anche ingolosito Ve lo ammetto Dal fatto che c'era una generazione di gas continua Quindi il cash flow Come vi dicevo Poi la gestione semplice Nell'hardware wallet La sicurezza Insomma tanti aspetti E una continua attesa Di una ripresa del progetto E della Cina in generale Quindi se dovesse riesplodere Il settore cripto in Cina NIO secondo me è in prima fila Quindi è questo un po' il discorso Sarò più veloce sulle altre Altrimenti oggi non finiamo più Dash Io ho iniziato praticamente parlando di Dash Iniziavo minando Dash In Cloud Mining Con Genesis Mining Qualcuno se lo ricorderà E nei tempi in cui Non era minabile in X11 Tramite ASIC Si minava effettivamente Veramente tanto E con poco quantitativo Sono riuscito ad accumularne tanto E ho cominciato a creare Dei shares in un masternode E anche lì Da una generazione Generazione di Dash In modo passivo Autonomo Il mio quantitativo è rimasto Intoccato Quindi sono solo andato a accumulare Tramite appunto Partecipazione in un masternode Sapete che Come progetto a me piace Dash Quindi chi segue il mio canale Lo sa Perché storicamente è una delle monete Che mi ha affascinato di più Alla stessa percentuale Ossia parliamo del 9% Del portafoglio Ethereum Ethereum che come vi ho detto È andata a incrementare Come percentuale Perché era andata a diminuire A seguito di tutto il calare Delle ICO Sinceramente ho dato via Quasi tutte le posizioni In Ether Perché vedevo Una morte lenta Del progetto Ho cominciato a ricrederci Proprio con la DeFi Tra parentesi Quando vi parlavo di Landing platform Io direi AKA DeFi Ora Ossia Non prendetemi alla lettera Per quello che sto dicendo Ma è l'evoluzione naturale Di quello che erano le lending Landing che promettevano Ritorni insostenibili Ecco Si è tutto ridimensionato Decentralizzando i progetti Percentuali di ritorno Più sostenibili Più basse Più umane Ma comunque Molto più alte Rispetto alla finanza Tradizionale Ecco È diventato tutto DeFi DeFi Infatti secondo me Ha ed avrà Una grandissima presa Quindi per quello Riaccumulo in Ether Che comunque È una moneta Come vi dicevo Nel video sulle strategie Che offre Una buona Buona sicurezza Perché dopo Bitcoin È quella più capitalizzata E ha delle buone prospettive Quindi sto cercando Di accumulare lì Quindi la percentuale È andata a rialzo Ma ultimamente Tanto che in precedenza Avevo più ADA Più percentuali in ADA Che Ether Di ADA non ho parlato tanto Poi ho delle percentuali In EOS È il 5% del portafoglio Ho partecipato all'ICO Quindi ho accumulato E non ho mai Dato via EOS Quindi ho Solamente accumulato Partecipando durante Tutto l'anno Di ICO Quindi andando ad accumulare Pian piano Poi ci sono le new entry Ossia MCO e CRO Non è una cosa voluta Che siano una percentuale Così alta Perché la somma Di tutte e due Mi sono accorto Quando facevo questo Questo video Quando preparavo Questo video E questo grafico Che raggiunge addirittura All'8% Che è una percentuale altissima Più di ADA Ad esempio Diciamo che è una cosa Che è avvenuta Quest'anno E ha un suo perché MCO Ne ho accumulati Perché Con L'annuncio Il rilascio E la spedizione Delle carte In Europa Come vi ho detto Secondo me è una strategia Che potrebbe ripagare Tanto che già È andata ad aumentare Come prezzo Quindi un quantitativo Ho cominciato già a cambiarlo Pian piano Lo cambio Magari in Ether O un'altra cosa Sto aspettando che arrivino Proprio le carte Fisicamente In Europa Secondo me ci sarà un altro Non è detto che lo sia Quindi Anche qui Non è un consiglio finanziario Io sto facendo così Potrei sbagliarmi Come ho sbagliato In passato Su tanti altri investimenti Ci potrebbe essere Un altro rialzo Quando queste carte Saranno finalmente Utilizzate anche qui in Europa Magari proprio nell'interesse Perché E gli MCO Per prendere la carta Vanno bloccati E quindi Meno circolante Nel mercato Quando poi questa Sarà stato raggiunto Magari il pic E comincerà a scendere Potrò pensare di cambiarne Mentre invece CRO Offre delle occasioni Importanti Soprattutto perché Crypto.com È in ascesa Sembrerebbe proprio Il nuovo exchange Di tendenza E quindi Vorrei puntarci È una sorta di scommessa E tra l'altro Riconoscono anche qui Ottime percentuali Se bloccati Perché sull'exchange Al momento Bloccando i CRO C'è un interesse Il 20% anno Quindi è una cosa Altissima E Insomma Ci sto provando Anche qui Con una percentuale Anche altina direi Poi c'è Link Alla stessa percentuale C'è Chainlink Che a detta di molti È stata sicuramente Tra le migliori altcoin Tra i migliori token Dello scorso anno E potrebbe essere Effettivamente Con la sua funzionalità Di essere Cross Chain Ossia Utilizzabile un po' Per tutto E nello stesso discorso Siccome secondo me Trend importante Sarà la DeFi Chainlink Potrebbe diventare fondamentale Nel discorso DeFi Quindi una buona percentuale La detengo A un 4% XRP Detengo un 2% Non tanto perché Io creda che XRP Sia chissà che rivoluzione Ma perché È stata una delle prime monete Con cui ho iniziato I miei investimenti Ho diciamo Nel suo picco massimo Dimezzato La percentuale che avevo In portafoglio Cambiandola In Bitcoin Ed altre Ma ho ottenuto Una buona parte Io ne comprai A un valore Bassissimo XRP Con tutto il suo circolante Tutto il discorso Che c'è dietro Potrebbe Da un momento all'altro Sempre presentare Delle occasioni È sostenuto da tanti Quindi non vorrei Dar via del tutto La posizione su XRP Che rimane un 2% Poi c'è Lira Lira è L'unica che si presenta In questa lista Diciamo di capitalizzazione Molto molto più bassa Ne ho una percentuale elevata Il 2% del portafoglio È tanto Perché ho partecipato Come founder E sono nel comitato Scientifico del progetto Quindi con i miei Masternode Il sostegno che sto dando Alla rete di Scripta Che secondo me È uno dei migliori progetti In campo nazionale Se non conoscete Scripta e Lira Non vi dico Di investirci Perché non lo direi mai E non lo dico mai Comprate una moneta Vi dico però Informatevi Su quello che stanno facendo Perché il team È praticamente italiano E stanno facendo Dei progetti E uno sviluppo Stra interessanti Molto migliori Di tantissimi altri sviluppi A capitalizzazione più alta Scripta e Lira Hanno un ecosistema Veramente fatto bene Con una tecnologia Veramente funzionale E lo so perché Appunto essendo nel comitato scientifico Sono un insider Vedo quello che c'è nel codice Vedo il team So come è strutturato il tutto E vi assicuro Che è un team Super valido Quindi non vi dico di investirci Perché non lo dico Non è un consiglio finanziario Vi dico di studiare Il progetto scritta Perché ne sentirete ancora parlare Tra l'altro con i masternode Ha anch'esso una Il ritorno In cash flow Passive income E quindi anche lì Una percentuale importante Da founder Poi ho messo Una bella fetta Un bello spicchio Al 9% Con tutte le altre crypto Che adesso vi sto per Spoilerare Vi sto per far vedere Ho dovuto far così Perché? Perché vi do un consiglio Non bisogna mai dire Effettivamente Quanti quantitativi avete Perché anche se oggi Possono essere pochi E possono non mettervi In pericolo Chissà se tra due anni Questi prezzi Dovessero poi schizzare Alle stelle In alcuni casi E poi Procurarvi Del rischio Del pericolo Io sono molto esposto Perché sono In qualche modo Un personaggio pubblico In questo settore Quanto meno E quindi Non posso dare Troppe informazioni personali Per quello Parlo di percentuali Magari i percentuali Potrebbero anche essere Un portafoglio Da 1000 dollari O 100 dollari Non cambierebbe nulla Si parla sempre Dei percentuali Quindi Nello stesso discorso Questa fetta del 9% Adesso vi faccio vedere Le altre cripto Che detengo E dopo Vi parlo anche Della mia lista To buy Perché è una lista Di quelle che vorrei comprare Carrellata Ne ho tantissime Sono tra cose Che voglio tenere Tra cose Che sono rimasugli Degli anni Insomma Tante altre cose Anche token bloccati Monete che ancora Devono essere lanciate Steam XMR Che sarebbe Monero Iota Tezos XTZ Di cui vorrei aumentare I percentuali SNX Synthetics Anche qui Cerco di accumulare BNB Anche qui ne vorrei di più Devo essere onesto XLM Ontology Anch'esso progetto Simile a NIO Farate dell'astro di NIO Che genera Passivi income Atom E Cosmos Ahimè non ne presi Quando mi Diedero Diciamo le informazioni Ed il prezzo Era addirittura Sotto al dollaro Perché mi dissero Che appunto L'ecosistema Era molto valido Non studiai in tempo E Atom Ne ho cominciato Ne ho cominciato ad accumulare Quando il prezzo Già era salito un po' E quello è sempre Un po' Un freno Poi 0x Vite Vite è una moneta Legata ad un social È una sorta di scommessa Potrebbe andare anche A vediamo come evolve A competere magari Con non so I vari Steemit Voice Vedremo BNK BAT TRX TRON STQ Questi sono tutti i token Che mi sono rimasti No CLOCK V12 Qcoin Shards IDH HXX Golem Steam Dollars Polybius Instar Nano HTML5 Cioè ci sono veramente Rimassugli Storici COV OMG Omisego Sib HPB IQ Atlantis Gas Che è il gas di Nio Gigabyte Nuggets ONG Che è il gas Di ontologi BitTorrent Universa SRN Electronium VT VXT Che sono i token Che io utilizzo come utility All'interno della carta Wirex DigitX Che sono i Digitex token Anche lì ne è passato di tempo Da quando ero presi I BQQ I Odem Mi sono accorto che Addirittura questa C'è due volte I GIN Poi BID Che sono legati a ByDAO E sono ancora bloccati E i Together Anch'essi token Bloccati Poi oltre a questi Ne ho un miscuio Sotto le percentuali Veramente Diciamo polvere Dust Che sono veramente Tantissimi Tra airdrop Tra token Che hanno perso Totalmente valore Praticamente valgono Centesimi Insomma Il mio percorso È stato lungo Dovete considerare Che in tre anni Full time Dove ogni giorno Sono andato ad operare E fare cose E applicarmi in questo settore Ne sono successe Tantissime Io sono uno Che sperimenta Questo è un settore innovativo Non è che si può pretendere Di essere esperti Senza andare a provare E quindi senza sbagliare Imparare E riprovare Questo lo dirò sempre E non me ne vergogno Onestamente Benissimo Tutto questo mucchione Fa il 9% Nella mia To buy list Che come vi ho spiegato Nel video Strategie Andrò a prendere Ma in una seconda fase Adesso preferisco dare priorità A monete più capitalizzate Dopo bitcoin Quindi top 10 A partire da Ethereum Sono queste qui Ossia Zillica Ho sempre voluto prenderne VeChain Tomo Interessante Algorand NG coin Che ha un grandissimo potenziale Se dovesse esplodere La tokenizzazione Nei games Nel settore games Ravencoin Icon Di cui avevo posizioni Nel rialzo ho fatto un'operazione Prendente di trading E quindi non ho più posizioni E poi Augur Con la sua moneta Rapp Anch'essa legata Alla DeFi Anche questa secondo me è interessante Magari ne parlerò in futuro Ecco Questo è nel dettaglio Tutto quello che c'è da sapere Sul portafoglio attuale Vi ripeto Non è quello che vorrei avere E non è un canvas Per dirvi Copiatelo Perché È stato strutturato Da una storia Non è un portafoglio Che viene Che è stato deciso A tavolino Farò un video su Invece Magari proprio Darle delle indicazioni Per strutturare Un portafoglio Partendo magari da zero O dagli inizi Quindi un canvas Vero e proprio In ogni caso Se questo video vi è piaciuto Anche se non c'è Una call to action Vero e propria Per un prossimo video Perché comunque Lo farò comunque Quello del canvas Lasciatemelo comunque Un like Se non volete Perdervi quel video A questo punto Iscrivetevi al canale Vi ringrazio E fatemi sapere Che ne pensate Di questa suddivisione Che ne pensate Di come è stata l'evoluzione So che qualcuno Ha seguito da diverso tempo Quindi qualcosa Se lo poteva aspettare Qualcosa invece Magari lo avrà Stupito Ciao a tutti